Si parlava di confluenza in buti raccolte, la regia è l'interfaccia unico di questo multiverso dello studio e anche della complessità di tutti i canali che sono stati avvocati che compongono la comunicazione televisiva. C'è quindi un coacerbo di segnali, di contributi, di materie che confluiscono in apparati, questi apparati mettono a disposizione attraverso un mixer, un miscelatore in fin dei conti, tutti questi contributi per la scelta del regista. Ovviamente il regista ha in qualche modo precodificato tutto questo, lo ha individuato, lo ha orientato, lo ha commissionato, lo ha per certi versi comandato e su questo termine comandato facciamo un breve passo indietro, una sottolineatura. In anni televisivi remoti i registi e per certi versi anche la dirigenza del RAI aveva come esperienza propria o come esperienza familiare una certa connotazione militare. Erano colonnelli, ex colonnelli, generali o ex generali, figli di generali, in qualche caso nella mia memoria persino aiutanti di campo di sua maestà o ministri della Real Casa. Erano conduttori d'uomini, però due elementi rimangono fondamentali nella figura del regista, ossia da una parte la capacità di guida, se la figura del direttore di produzione è quella di mediatore composizione, la regia è quella che poi guida una trasmissione nel suo insieme. L'altra è una dimensione autorale che pur cambiando è rimasta e segna comunque in RAI almeno la figura della regia. Allora, sono il tenente colonnello Rimoldi, sono il regista del programma, agli ordini, e sono chi guida questa barca. Come appunto ha ricordato, e vorrei partire da quello, Renzo, il regista è in fondo autore, è comunque autore del programma, perché nasce come figura presa dal cinema, dove il regista è il vertice decisionale di qualsiasi operazione, e la televisione lo prende da lì, se lo porta, e come tale lo tiene come punto di riferimento. E' all'inizio colui che inventa il programma, che crea il format, che ha l'idea, lo propone e lo guida totalmente. I falco, i trapani erano in realtà appunto dei veri e propri generali, cioè tutti eseguivano ciò che loro chiedevano. Nel tempo la figura si è trasformata, per molti motivi che non sto a raccontare, molti di questi però per ragioni produttive, per ragioni di tempo, il regista è diventato una parte della componente autorale, se non una parte finale. L'autore inventa, inventa un programma, lo crea, chiede a un regista di dargli forma, di renderlo comunicativo, un programma. E a quel punto interviene il regista, ed è la figura molto più in utilizzo oggi. Il regista resta comunque un autore in ogni caso, perché è lui a scrivere con le immagini il programma stesso. Allora noi siamo nel regno dell'autore, del regista autore, che è Paolo Beldi. Quindi, in questo studio, quelli che è il calcio, lui ha sempre raccontato in un modo assolutamente personalissimo quel programma. Tolto Beldi e quelli che è il calcio avrebbe avuto probabilmente un'altra fortuna, ma sicuramente un'altra scrittura. Io credo che questo dello stile personale sia l'idea che sta alla base del regista, cioè trovare una propria originalità e metterla in pratica. Ogni programma ha un suo obiettivo, ha un suo target. Il regista, col suo stile, dovrebbe adattarsi e trovare, come fate voi nei vostri progetti, il migliore. Il regista ha le funzioni che sono state descritte anche dal direttore di produzione, quindi di gestione della squadra, che sono le sue lunghe braccia, e degli apparati tecnici. Deve comunque conoscere, avere una propria cultura, un proprio gusto e una propria capacità di gestire, di regolarsi con la squadra. Gli altri lavorano per lui. Lui è al timone e deve in un certo punto guidare. Un po' come lo skipper che fa lavorare tutti, però il timone ce l'è in mano lui. Sono moltissimi segnali che contemporaneamente arrivano al banco regia e il regista è chiamato a scegliere nell'immediato. Quindi conoscenza di tutti i mezzi, conoscenza dei segnali, immediatezza della decisione rispetto al proprio linguaggio. Passo la parola adesso ad Andrea Morlotti, che è il mixer video di Quelli che è il calcio. La particolarità di Quelli che è il calcio è che, oltre allo studio che vedete, e ai set esterni di Crozza, di Mandi Mandi, che sono stati citati precedentemente, abbiamo una marea di collegamenti. Se l'operatore può far vedere, abbiamo mantenuto l'ultima puntata di Quelli che è il calcio, avevamo otto collegamenti esterni. Pensate che ci sono otto squadre esterne che lavorano assieme a noi. Un'altra particolarità è che, seguendo il campionato di calcio, abbiamo tutte le basse frequenze delle partite di Serie A. Abbiamo fino a 13 telecamere, anche qui il numero delle telecamere gestite è enorme e la difficoltà del regista è dover metterli in successione in maniera coordinata. La trasmissione è un po' particolare perché i contributi sono parecchi. Per metterli in onda esistono delle macchine digitali con le quali è possibile richiamare immediatamente ciò che il regista pretende. Una volta questo era impensabile con i registratori magnetici e con i tempi di oggi la regia è talmente veloce da pretendere macchine sempre più performanti. Questo è un po' il lavoro del mixer video. Non sempre si riesce però, questo è quanto. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.